Per quanto riguarda le palestre, daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Domenica scorsa il Presidente del Consiglio Conti ha dato una settimana di tempo alle palestre per adeguarsi all'enorme anticontaggio. In realtà nel decimo municipio sono molte le strutture che avevano già adottato ogni precauzione possibile. Termoscanner all'entrata, igienizzanti per le mani e sanificazione degli attrezzi. E soltanto per questa frase che è stata detta, le persone, io la palestra ce l'ho vuota da quando hanno detto questa frase qua, quindi chi doveva rinnovare non ha rinnovato. Ma hanno messo paura, hanno creato terrorismo anche con chi poi è iscritto rinnova, però non viene perché ha paura che possa succedere qualche cosa. I NAS hanno già controllato diversi centri del decimo municipio. Sono venuti i NAS non più tardi di martedì a fare il controllo, hanno trovato tutto esattamente in regola. Sono stati anche qui all'Axa, comunque tutto a posto. Perché le palestre dovrebbero rimanere aperte? Perché c'è sicurezza, perché c'è distanziamento, perché giustamente il fitness e il pilates, come tutti gli altri sport, servono soprattutto in questo momento, in questo momento proprio dove le difese immunitarie in effetti scendono proprio per via di questa situazione. Cosa vuol dire se da lunedì le chiudono un'altra volta? Perché non lavoriamo, anche perché molti di noi sono a partita IVA, quindi comunque sia al di là delle aiuti che può dare lo Stato, però oltre quello non abbiamo. Sono la responsabile del settore della ginnastica artistica e anche lì abbiamo cercato di mantenere tutto il distanziamento, la sicurezza, insomma tutto quello che poi il decreto ci ha imposto. Dello stesso avviso, molti frequentatori che non sentono di correre alcun rischio per la propria salute. Io mi alleno regolarmente alla Samurai Zen Club di Santa Monica, dove vengono attuate tutte le necessarie precauzioni per le normative anti-Covid. È importante continuare ad allenarci, anche perché non si può fermare di nuovo le palestre. Fa bene a tutti, allenamento sempre costante e speriamo bene. Anch'io frequento una palestra di ostia e la frequento in modo continuo da quando è terminato il lockdown. Per quanto mi riguarda non ho mai percepito timore di contagi, in quanto sia le persone che frequentano, ma soprattutto il nostro allenatore rispetta molto le procedure di sicurezza. Sarebbe un'ingiustizia punire tutte le strutture sportive quando è solamente una parte quella che non rispetta le regole anti-contagio. Andrebbe chiuso chi non si adegua alle norme, consentendo invece di proseguire l'attività a chi ha investito tempo e denaro per far sentire al sicuro clienti e dipendenti. Grazie a tutti.